Io quell'infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni. 200 anni fa Giacomo Leopardi scriveva quella che sarebbe diventata la sua opera più celebre, l'Infinito. Oggi in tutta Italia più di 2800 studenti sono usciti dalle scuole per onorare la poesia e il suo autore in un flash mob collettivo che ha coinvolto anche i ragazzi della Scuola Media Ricci di Belluno. Coadiuvati dal professor Franco Chemello in un angolo di Piazza dei Martiri, gli studenti hanno così declamato i versi immortali dell'infinito. Così, tra questa immensità, se annega il pensiero mio e il naufragame dolce in questo mare. È una poesia evocativa, è una poesia che serve per far capire anche alcuni concetti importanti ai giovani, ai ragazzi. O Pardi ci aiuta a indagare noi stessi ma a confrontarci con alcuni concetti universali per scoprire alcune emozioni importanti, il confronto con i limiti della realtà, il nostro rapporto con la natura e qui si apre un mondo proprio infinito. Una giornata pensata sì per celebrare Giacomo Leopardi e le sue liriche ma voluta anche per introdurre i più giovani alla letteratura, alla ricerca del bello e alle gioie della cultura. Ci è piaciuto molto perché oltre ad approfondire la poesia e capirla meglio ha reso la classe molto unita, è veramente bella, ha un significato fantastico. Mi piace molto l'ultimo tratto, quello in cui dice il naufragare gli ha dolce in questo mare perché mi ha fatto molto capire che comunque anche se al mare dell'infinito l'annegarsi in questo mare è comunque un annegarsi felice, immergersi in qualcosa che gli dà anche un certo tipo di felicità.